Questa è la storia di come ho regalato quella parete alla mia ragazza. Non è bellissima? Ah no, non c'è ancora niente. Aspettate, facciamo un passo indietro. Smissione regalo di compleanno con fedele assistente. Per la prima parte c'è da andare all'IKEA. Per fortuna c'è DriveNow con i suoi pacchetti. Sperando di farcela in tre ore. Dici che ci stanno le cose qua? Ce la dici? Dai, dovrebbe. Partite le nostre tre ore. Si va. Arrivati in soli 37 minuti individuo subito quello che c'è da prendere e vado in quello che in molti scambiano con il terzo girone dell'inferno. Ma sì, perdiamo pure tempo. Come neanche in Mission Impossible finiamo tutto con un discreto margine. Come si vede dallo stato di quelle cose, questo è un angolo del balcone dove non veniamo mai. Ma per la legge delle probabilità, lei sicuramente uscirà stasera e scoprirà tutto. Non sospetta niente e non ha neanche guardato verso il balcone. Spoiler per chi ancora non convive. Ci sarà sempre meno spazio per voi e sempre più spazio per lei. E adesso lui dove lo mettiamo? Per costruire tutto mentre lavoro, ho chiamato un esperto del settore. Ciao. Allora, come è questa sorpresa? Bellissimo. Questa è la versione spoglia, ma ora dobbiamo andare a mettere gli accessori. Un buchetto. Lo copriamo così. Tadam! L'effetto finale. Per non sbagliare, appena entra, troverà questo. Per poi trovarsi di fronte a lui. Ok, adesso nascondiamo la camera e vediamo quando entra. Per non sbagliare, appena entra, troverà questo. Per non sbagliare, appena entra.